Peccato, peccato perché penso che la squadra sul campo abbia fatto molto bene, mettendo il Siena in palese difficoltà abbiamo controllato il gioco, non è scontato venire a Siena a avere questo impatto, questa qualità e questa continuità di gioco, quindi sicuramente un passo avanti della squadra anche rispetto alla prestazione ultima che avevamo fatto a Imola e che deve, come abbiamo detto all'interno dello spogliatoio a fine partita, infondere fiducia perché io penso che se giochiamo così difficilmente poi sul campo perderemo le partite perché penso che oggi la squadra abbia fatto bene. Quante opportunità più potenziali che concrete? Sì, è stato proprio un'analisi che abbiamo fatto anche con la dirigenza a fine partita perché penso che la squadra abbia creato tantissimo volume, tanta mole di gioco ed è chiaro che dobbiamo essere anche un po' più cattivi, avere più furore nell'andare a concludere l'azione perché sono state tante le potenziali occasioni che poi sono state vanificate o nell'ultima rifinitura o dove non abbiamo calciato perché abbiamo magari scelto il controllo, è chiaro che su una palla anche mezza a mezza devi avere la rabbia e la capacità di concludere l'azione perché per il volume di gioco che facciamo dobbiamo essere bravi a concludere molto di più. Lui hai parlato con la dirigenza, a Imola erano molto contrariati oggi, qual era il clima? No, oggi la partita è piaciuta, è chiaro che a Imola è stato un clima di tensione ma è dovuto anche all'arrabbiatura della mancata prestazione dopo come avevamo giocato a Pesaro che avevamo vinto molto bene chiudendo la partita già nel primo tempo e quindi eravamo tutti quanti arrabbiati e poi il gol al 94-93 preso a Imola è chiaro che ha fomentato in ognuno di noi anche le tensioni. Detto questo oggi insomma anche loro hanno evidenziato che è chiaro che la squadra ha giocato molto bene e anche all'interno dello spogliatoio c'era consapevolezza che questa è la strada giusta. I tuoi tempi delle scelte iniziali, l'esordio di Cisco, l'esordio dal primo minuto di D'Andrea che aveva già giocato anche a Imola, ecco come ti sono sembrati? E soprattutto quando hai pensato di rivoluzionare un po' il periodo del segretario? No, è chiaro che nella gestione delle tre partite settimanali poi andiamo e avremo davanti un tour de force veramente impegnativo, è chiaro che dobbiamo essere bravi anche a centellinare un po' le energie dove è possibile. Oggi ho scelto quelle caratteristiche di D'Andrea e di Cisco anche per come volevamo attaccare i nostri avversari. E' chiaro che secondo me la qualità e l'intelligenza di D'Andrea nel capire il gioco, nel giocare con i compagni, nei suoi smarcamenti negli ultimi 20-30 metri, secondo me potevano dar fastidio a un giocatore esperto come Terzi. E Cisco è chiaro che ha svolto con noi solamente un allenamento e una rifinitura e qualche volta, come normale che sia, è mancato nelle letture e nelle dinamiche del nostro gioco, però ha fatto intravedere quelle che sono le sue potenzialità, la sua abilità nel dribbling, nell'uno contro uno, la sua velocità, la sua fisicità. E' chiaro che è stato un po' slegato nella squadra in entrambe le fasi di gioco, ma questo ci vuole tempo perché non è che quando prende un ragazzo lo butti dentro è normale che possa fare degli errori perché ancora deve calarsi e deve conoscere tutto, i nuovi principi e i compagni. Però penso che per essere stata la prima partita che ha giocato ha dato degli spunti positivi. Davanti e anche dietro, visto anche l'infortunio di Bellucci, pensi che possa arrivare qualcuno tra gli svincolati? Il direttore sportivo Sandro Federico ha detto che magari davanti qualcuno senza contratto può arrivare, ti chiedo se anche dietro a questo punto c'è la necessità, visto che siete in tre, Pinto, Codro, Mazze e Soprano. E' chiaro che dobbiamo ancora attendere un po' la valutazione di Bellucci perché ancora non sappiamo se è da operare o meno, quindi è chiaro che se c'è l'intervento chirurgico la stagione è praticamente finita, se dovesse bastare una terapia conservativa e dovesse mancare per 15-20 giorni allora potremmo decidere anche di fare qualcosa di diverso. E' chiaro che l'assenza di Bellucci numericamente ci mette in difficoltà se dovesse mancare. E poi davanti è chiaro che già lo hanno espresso loro la volontà di andare alla ricerca di qualcosa per completare un po' il mosaico che hanno fatto sul mercato. Vediamo se ci sarà l'opportunità di poter intervenire perché è chiaro che non dobbiamo prendere per prendere ma devono essere giocatori che, siccome mancano due mesi poco più al termine del campionato, devono essere anche giocatori che debbano essere funzionali ma soprattutto devono essere allenati e non fermi completamente da chissà quanto tempo perché sennò servirebbero poco.